Fa sempre un po' di impressione vedere queste enormi macchine trasportate da una zona all'altra. Se viaggiate un po' in macchina sicuramente vi sarete già imbattuti nel trasporto di mezzi o beni fuori scala, ma esattamente cosa significa trasporto eccezionale? Sono identificati come eccezionali tutti quei viaggi che prevedono l'utilizzo di veicoli che superano i limiti stabiliti per sagoma, massa o sicurezza relativi alle leggi sulla circolazione stradale. Ad esempio quando la larghezza supera i 2,55 metri, oppure per carichi di altezza superiori ai 4 metri. E la scorta non sempre obbligatoria, ma lo diventa quando si verificano determinate condizioni come ad esempio i trasporti eccezionali con carichi sporgenti più di 2,5 metri.